Per Imperia questo è il terzo ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. Ad inaugurare la breve serie fu proprio Claudio Scaiola quando perse il ballottaggio con Davide Berio nel 1995. Una sconfitta nata dalla divisione fra Scaiola e l'allora neonato Forza Italia. La negativa esperienza amministrativa del centro-sinistra Imperia portò poi nel 1999 il centrodestra unito a vincere al primo turno con Luigi Ginetto Sappa. Vittoria che fu bissata di nuovo da Ginetto Sappa nel 2004 e poi da Paolo Strescino nel 2009. La crisi nata a seguito dell'inchiesta relativa al nuovo porto turistico imperiese portò poi al commissariamento del Comune alle successive elezioni di centrodestra ancora una volta sfaldato persa al ballottaggio con Ermini Annoni che dovette cedere il posto all'attuale sindaco Carlo Capacci. Oggi il centrodestra ancora una volta diviso da una parte Luca Lanteri con le forze tradizionali che lo compongono e dall'altra Claudio Scaiola con una formazione civica. Il paradosso è che Scaiola si trova a vivere un'esperienza molto simile a quella del 1995 con la differenza che questa volta il ballottaggio non è con oppositori storici ma con ex amici. Nella breve storia dei ballottaggi imperiesi ha sempre vinto chi era già in vantaggio al primo turno e questa volta davanti c'è proprio Claudio Scaiola. Sarà la sua rivincita e l'ennesima prova che il centrodestra diviso non sfonda? Fra poco lo sapremo.